Si cerca di chiarire i contorni del giallo del decesso del quarantenne Francesco Ciammaichella trovato senza vita ieri nella casa parcheggio di via Albanese a Chieti. Le indagini stanno imboccando alcune direzioni ma il riservo tra gli investigatori è assoluto in queste prime ore che dovrebbero essere anche quelle di una autopsia da effettuare in giornata. Ma le ultimissime ce le dice il nostro Luca Pompei che si da ieri ha seguito per noi anche sui social questo fatto di sangue. Luca, buon pomeriggio. Quali sono gli ultimi sviluppi delle indagini? Carimene, si dici bene. Ovviamente c'è il più stretto riservo negli ambienti della procura e nella caserma dei carabinieri sugli sviluppi per a qualche riguarda la morte di Francesco Ciammaichella avvenuta in questa palazzina alle mie spalle in via Albanese 41 al quarto piano ed è qui che è stato trovato ieri pomeriggio senza vita Francesco Ciammaichella ma la morte risalirebbe a diverse ore prima se non addirittura la giornata di martedì. Dicevamo bocche cucite e siamo riusciti ad avere qualche notizia. Non di più, intanto la più importante ovvero che l'autopsia affidata al medico legale Cristian Dovidio è stata programmata per il pomeriggio salvo sorprese perché comunque secondo Prassi dovrebbe essere effettuato un tampone sul cadavere del povero Francesco Ciammaichella. In base all'esito di questo tampone si deciderà se effettuare l'autopsia in giornata o addirittura rinviarla alla giornata di domani. Comunque la notizia è che l'autopsia è disposta per il pomeriggio. L'altro aspetto riguarda le due persone fermate. Ieri ve ne abbiamo dato conto, una di queste l'abbiamo ripresa in diretta mentre lasciava qui la zona di Via Albanese a bordo di una gazzella dei carabinieri. Si tratta di una donna e di un uomo. Ci è stato confermato che si tratta di due persone informate sui fatti perché erano due persone molto amiche di Francesco. La stretta cerchia di amicizia era formata proprio da queste tre persone per cui loro erano quelli che avevano un contatto più diretto con Francesco. Sono state sentite per diverse ore per cercare di far emergere degli elementi utili alle indagini e su questo punto c'è anche da dire che sono state escluse diverse piste. Intanto quella della rapina. Francesco era una persona umile, lavorava di piccoli impieghi, era in bianchino e muratore e non aveva grosse disponibilità per subire... Luca, abbiamo un piccolo drop sul collegamento in diretta sul tuo flusso. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare a volo il segnale in collegamento. Eccoci, Luca, stavi parlando un po' della figura della vittima. Sì, dicevamo, esclusa la pista della rapina sarebbe esclusa anche la pista legata alla presunta tossicodipendenza dell'uomo. L'uomo non faceva, almeno non c'è stato confermato, che l'uomo facesse uso di sostanze. Quindi è stata esclusa anche questa pista. Resta in qualche modo la pista della sfera personale. È su questo che gli inquirenti stanno approfondendo le loro indagini ed è anche per questo che le due persone portate in caserma potrebbero dare elementi utili alla soluzione del caso. Quello che è certo, a questo punto lo possiamo dire con estrema certezza, è che Francesco Ciammaichella è stato ucciso. La profonda ferita sul capo sicuramente provocata da un corpo contundente, su questo potrà dire meglio l'autopsia del pomeriggio, ma comunque Francesco Ciammaichella è stato certamente ucciso in casa sua, probabilmente al culmine di una lite. Non ci sono segni di colluttazione, questo è un altro elemento importante, ma resta questa profonda ferita sulla testa che ha causato la morte di Francesco Ciammaichella. Cercheremo di capire se nel pomeriggio, così come è stato detto, sarà effettuata questa autopsia dall'esito, potrebbero emergere altri elementi utili alla vicenda. Se non hai domande, Carmine, ti restituisco la linea. Grazie.